Vieni ladri a casa, mentre giocavamo a MotoGP Chi è la petta sexy? Tu Ah, mi sa che tommi Ti seguo Sai che mi seguo, mi seguo anche tu Tutto Petit Cosa 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 Il cuore Andiamo Cosa Cosa Inizio Quattro a questo? Pagmattolo che l'ancio rumore No Avanti io adesso Raga, io dirai ne ho fosti No Non siete Non siete Grazie a tutti Grazie a tutti Sì 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 Si Sì 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 prima ti muta tutte e due e adesso ti muta te attacca e riattacca le co e allora c'è quelle che ci sto usando quelle del telefono e allora gambe te le mettete le nuove poi c'è gente c'è gente o no? c'è gente o no? i cridoni solo come hai fatto a meridare i cridoni? ho subito danno ma hanno buttato tre cose buzze vai alzalo ci penso io ehi ma già vanno sono messo mezz'ora per capire che quella è quella che non valla bravi tu raga lasciatemi i cd si venite aspetta che non so se fai il bendo per me venite faccio un altro bendo vieni 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 E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più P comum Come si tembiuni a colpi bomba? Eh D РМ1 Un di di 5 Pesano No Dentro le muck Tres aizio E' bravo Tu hai bravo sul falò I'ai rinба utile Anga a franco falò non voglio spiegarlo ram è nuovo a posto sono pure siamo venuti con due colpi bomba non so ma io sono tutto ma sei venuto un po' fuori rammenti e pigiotto quindi si spalò mi stanno i cavoli a fianco non so niente l'ho sprecato però con me è bello farlo portare si la fate già ma il suo rumore quale rumore? quale rumore? quale rumore? non scomparire ok un gruzzolo niente male ma tu sei sce accoglie tutte le monete e ti accoglie la moneta viola guardate guardate sce guardate la vostra è il basso del po' di me un po' più giocato è un po' più giocato è un po' più giocato è l'interno cambiene ai viene qua è un po' più giocato tu cavolo hai dapparmi non mi porto il granato non mi so vederlo no infatti porto no perchè stai andando fuori te per vedere se c'è qualche pozza per pescare però non ci sono non potevamo vincere la scorsa partita già ma non potevamo vincere tutte le tasche di attasera non c'è un altro non c'è un altro cioè antonio è stato atterrato io ci ho tirato una cecchina da in bocca ma pittazza io non ho un assalto ma ho visto non ho colpi assalto ne ho 30 io sono attento trombone ci sono altre cose puzzolenti devo lasciare più è il nuovo ho ciao non ci sono c'è un po' ma ora è un po' c'èvamo e colpi assalto vado a chiedere da quella rado ma vieni un attimo mi fa il tac bianco io lo vado a chiedere vado a chiedere i colpi bomba e i colpi a questo che è entrato boh che è entrato non è uscita la cosa non è una modifica vocale è pure a me no non mi chiede no non mi chiede no ve lo chiede io quello si è colpi assalto annaccio battesimo tiri 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 ehi mo non vengo con il suo bomb trombone taratà 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 pago questa è una fossa ma si mette pure il coso sotto acqua è un bordello ok c'è una nuova corsa c'è un'acqua guarda tutto il gioco e c'è un ufo di baci tutto ok io ho lasciato il pesce per prendere il pesce qua tattico qua tattico bianco prendetelo che vi serve qua ci stanno due splash le porto io le porto io me le devo fare una va bene sono tre di vita c'è il falò c'è il falò comunque c'è quello che spieghi a fare questo è il falò c'è scritto a sta stronzo, vannaccio grazie! io non ho colpi di niente io ho 66 ne ho daga ma pingate, pingate qualcuno oh di me, mamma ah allora, ok ah beh ho preso qua qua, si mette lo trono abbiamo qua, abbiamo carico qualche culo cazzo dell'uomo, scendi, scendi mi servono i... scendi, stavo facendo un taro detto cosi ah, eh aspetta, ne ho scendo uno scendi, rimanere no, stanno due RPG no, ha taro detto cosi addioo ma guarda roba che c'è quanti liti hai scelto? 50 66 scusate scherzi 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 ragazzi andatevi a cercare tutto questo ragazzi è andato a cercare il tutto no ragazzi no a voi quante volte mi avete rubato il luco? sei stai ma si è venuto a pisser te che vai trovando oh ma è andato a cercare oh ma è andato a cercare di sbagliare come è stato uno da voi? dov'è? si è ucciso si è ucciso era da solo quanto è andato a cercare di sbagliare E' da qua, ma non si è da sotto Questa? Mannaggia Questa è una pesca qua Sì, ci stanno le canne da pesca No, ho la pozza Sì, ci sta la pozza, stai avvicino a noi Eh, dico sta qua La farò io la kill Perché io sono il boss del poppy Ragazzi, non prenderla a quella Ragazzi, stanno giampando addosso Andiamo a guardare la mano qua Andiamo a guardare la mano qua Ma sono qua, ma sono qua Ma sono qua, ma sono qua Ma sono qua, ma io sto tornando in lì Infatti Ma non ho visto ci fare la roba Con le cazzo, speriamo Ma vedi lo scarto, vai giù Guarda, vedi lo scarto Ma vedi come cazzo, cazzo No, vediamoci i timur anna ma tocarete? vai carire ma guarda, c'è un joystick mio oh, sta porta in merda voi che facete questi timur? raga, bussiamoli raga, l'ho avuto io raga, l'ho avuto io raga, l'ho avuto io ma io sono musciante mannaccio, mannaccio 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 raga, sta qua è bianco uno una terra uno 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 bello va giù ma che stiamo in mezzo alla stanno ma sta là, va giù sta là va va vabbè andando con quello è la nostra che sembra bravo ma io hai giusto ma sembra bravi ragazzoni sembra quel cazzo lungo un metro lunghissimo vede ma c'era vede